L'alternativa è la chiave di quando c'è una vera crescita di umanità, che noi veniamo con una mentalità, magari voi no, ma insomma generalmente, e dove quando si dice la crescita si intende la crescita di ricchezza, dove secondo gli economisti moderni all'inizio hanno detto che la ricchezza veniva dal lavoro, e già fin qui, notate sia economisti di matrice borghese all'inizio del capitalismo, erano filosofi morali, sia Marx, il valore viene dal lavoro. Poi a poco a poco si è visto che il lavoro accumulato di renta capitale è il vero valore di renta capitale, cioè l'elemento propulsore dell'economia non è affatto il lavoro, è il capitale, ecco perché tutto è misurato sulle esigenze, sui diritti del capitale e non dei lavoratori. Voi vedete, in questo modello passa questa menzogna gigantesca, per cui il mercato è quello che produce ricchezza. La salute, la sanità, lo Stato, la società, la democrazia, questi costano, costano troppo, e si viene a dire a tutte queste realtà che stanno vivendo al di sopra delle loro possibilità. Questo è il ritornello, no? Nella realtà vera, se fossimo lucidi, dovremmo dire che il capitalismo vive al di sopra delle sue possibilità, perché sfrutta il lavoro, la fiducia, il consenso, i sacrifici delle persone e restituisce precarizzazione, miseria e distruzione della natura. Quindi è lui che vive al di sopra delle sue possibilità, non la democrazia, non i diritti, non la scuola, non la salute. Allora, però, questa percezione intanto passa.